buongiorno a tutti benvenuti a questo seminario questo webinar oggi tratteremo i modelli di regressione logistica con i bms pss statistics è l'ultimo appuntamento se non erro di questo ciclo come sempre sono vi ricordo che sono dei webinar che noi proponiamo relativamente all'utilizzo di spss lo facciamo diciamo come accompagnamento come attività di accompagnamento al contratto spss statistics in convenzione quindi diciamo a come obiettivo non è un corso di formazione chiaramente ma all'obiettivo di dare una panoramica relativamente agli strumenti che fanno parte di questa di questo software che le università stanno acquistando attraverso il contratto sottoscritto dalla cui all'esito delle procedure di gara questo come dicevo oggi l'ultimo è l'ultimo appuntamento di questo ciclo però diciamo nel in quello che ci siamo detti informalmente prima dell'avvio di questo seminario c'è da parte di di sps la diciamo disponibilità eventualmente diciamo a proporre qualche ulteriore appuntamento per fare questo vi proporremo una sarpa oppure potete dare voi direttamente indicazioni a sua nuova magari ci dirà meglio in modo tale che possiamo farlo su temi che possono essere di vostro interesse come dicevo all'inizio l'obiettivo non è quello che un corso di formazione ma di darvi una panoramica affinché voi possiate in qualche modo comprendere se questo strumento è come dire adatto o meno alla posto alle vostre all'ambito diciamo delle vostre attività e quindi poi in caso ci saranno poi approfondimenti verticali insomma io prendo altro tempo e do la parola a laura zerbini di ricordo che stiamo registrando quindi il questo incontro lo renderemo poi disponibile sul nostro sito ict.ru.it insieme alla alle slide che abbiamo presentato eventualmente insomma anche altri richiamenti grazie a tutti della partecipazione do quindi la parola a laura zerbini per una bellissima introduzione e poi a mattia cefis che è il nostro nostro docente di oggi grazie a tutti buon seminario grazie Jürgen allora io come al solito faccio un breve cappello iniziale anche per dare il tempo un po' a tutti di collegarsi visto che gli iscritti sono davvero tanti ma come come al mio solito cerco di andare abbastanza veloce anche perché quello che ci interessa è appunto entrare nel vivo del webinar per chi ha già partecipato ai webinar o per chi ci conosce già noi siamo la vecchia SPSS Italia quindi siamo sul mercato dell'analytics dal 1994 quindi ormai da tantissimi anni da più di 25 anni e in tutti questi anni ci siamo specializzati ovviamente su SPSS in vari ambiti di utilizzo io in particolare seguo ovviamente tutta la parte delle università e anche degli enti di ricerca ma noi collaboriamo ormai abbiamo contratti con tantissime altre realtà tra cui molte pubbliche amministrazioni ma anche associazioni e fondazioni e anche tantissime aziende sul territorio italiano. Da quando è subentrata IBM nel 2009 noi siamo diventati ovviamente business partner di IBM ma anche software and support provider questo perché ovviamente IBM ha ritenuto che avendo così tanta esperienza sui prodotti e fornendo già assistenza tecnica sui prodotti SPSS fossimo ovviamente in grado di fornire assolutamente assistenza tecnica direttamente ai nostri clienti. Scusate sentivo dei rumori di fondo ok perfetto e siamo anche ovviamente gold business partner IBM e quindi siamo punto di riferimento diciamo almeno per ora in Italia per quanto riguarda ancora i prodotti SPSS. Per questo motivo anche siamo riusciti ad adjudicarci la gara di cui parlava prima Jürgen con la CRUI per la distribuzione diciamo massiva di licenze IBM e SPSS statistics negli Atenei italiani. È stato un grosso passo avanti ovviamente è un contratto che agevola molto le università che vogliono dotarsi di uno strumento professionale di data analysis e abbiamo messo a disposizione ovviamente diverse pagine informative. Potete accedere a queste pagine informative sia dal sito direttamente della CRUI, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere. Sì, dalla sezione IBM e CT trovate qui tutte le informazioni del contratto che è stato stipulato quindi potete anche eventualmente poi vedere tutta la documentazione di gara. Trovate anche delle slide di presentazione, trovate anche il link alla pagina informativa. In più ho visto che hanno anche aggiunto sul sito CRUI la possibilità di andare direttamente al marketplace dove eventualmente fare addirittura l'ordine. Dalla pagina informativa trovate tutte le indicazioni su questo contratto quindi che cosa include, i tipi di licenze ovviamente che possono essere inclusi nel contratto quindi sia in architettura singolo utente sia in architettura rete ma anche i tre bundle che si possono scegliere nella dotazione delle licenze. Ovviamente i bundle sono verticali e il premium è quello che include tutte le funzionalità di statistics lo standard è più un intermedio diciamo così e il base è quello proprio basico diciamo proprio che di solito noi consigliamo per gli studenti che approcciano per la prima volta. Da qui poi ovviamente eventualmente gli uffici di sistemi informativi o chi si occupa di valutare eventualmente l'acquisto potrà poi accedere al portale e fare tutti i vari passaggi. Prima di passare la parola a Mattia vi dico solo che visto che alcuni si sono collegati dopo avevo messo in chat un link a un'altra pagina informativa diciamo così di questo contratto un po' più di approfondimento su statistics dove trovate dei contenuti di approfondimento i link ai vecchi webinar che abbiamo fatto dove potete rivederli, vedere le slide eccetera, dei tutorial e soprattutto proprio per quello che diceva prima Jürgen cioè per eventualmente la prossima programmazione un questionario dove potete eventualmente indicarci anche delle tematiche di interesse in modo che noi quando andiamo a decidere quali webinar fare nel prossimo futuro teniamo conto anche ovviamente di quello che ci dite voi, di quello che vi interessa. Qui trovate tutti i miei riferimenti, trovate anche il QR code di LinkedIn quindi per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi. A questo punto io lascio la palla direttamente a Mattia così entriamo nel cuore del webinar di oggi. Vi ringrazio, per quanto riguarda eventuali domande vi anticipo che cercheremo scrivetele in chat così non interrompiamo Mattia, cercheremo di fare il possibile per rispondere magari alla fine del webinar ma nel caso non dovessimo riuscire verranno pubblicate poi le domande con tutte le risposte sul sito della Cui. Vai Mattia, tolgo la mia condivisione. Grazie, grazie Laura. Perfetto, procedo con la condivisione. Eccoci. Vedete il mio schermo, Laura? Sì, sì, lo vediamo. Perfetto, grazie. Grazie mille. Perfetto, grazie mille intanto a Jürgen e a Laura per l'occasione e quest'oggi come già anticipato siamo qui, presentiamo una strategia, una tecnica statistica molto interessante che è la regressione logistica applicata tramite il nostro software statistics for data analysis e capire un attimino le potenzialità che ci offre. e l'obiettivo è vedere, diciamo, qualche spunto, dare qualche spunto interessante perché, diciamo, come diceva prima Jürgen, non è, essendo questo un webinar, non è, diciamo, non ha la presunzione di essere un corso e di approfondire nello specifico la tematica e la tecnica in questione. Abbiamo diversi step in agenda quest'oggi. Partiremo da un'introduzione, cercando di capire, dare un'idea dove è collocata questa tecnica statistica nel, diciamo, nel mondo, delle tecniche statistiche più utilizzate, diciamo, in genere, in letteratura, per poi passare, diciamo, a un overview proprio molto rapida sulla tecnica e cercare di capire, diciamo, le peculiarità e poi arrivare a un esempio pratico con SPSS. Ma procediamo pure con ordine e eccoci qui, vediamo un attimino come contesto, come introduzione, come contesto introduttivo, cercare di capire dove è collocata la regressione logistica nel, diciamo, nell'albero delle tecniche statistiche più importanti. Quindi, seguendo i rettangolini in rosso, arriviamo alla regressione logistica, che è un metodo statistico di apprendimento supervisionato a risposta qualitativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che, innanzitutto, un metodo statistico di apprendimento supervisionato vuol dire che c'è un, quando si fa quest'analisi, quando ci si approccia a quest'analisi, bisogna avere un outcome, una variable target di riferimento per questa analisi. E, in particolare, questa variabile deve essere qualitativa. Questa è la cosa importante. E si dice, diciamo, tra virgolette, di apprendimento questo metodo perché, diciamo, l'algoritmo permette al modello di imparare, diciamo, tra virgolette, in base ai dati che gli diamo, in base ai dati che gli diamo, tra virgolette, in pasto al nostro SPSS, di imparare e generare un modello, tra virgolette, generale e replicabile in altre situazioni. Quindi, per questo è detto di apprendimento supervisionato, quindi, perché abbiamo una variabile di riferimento, una variabile target, che è, in particolare, qualitativa. E, in particolare, la variabile target oggetto di studio deve essere, un tipo particolare di variabile qualitativa, deve essere, infatti, dicotomica, ovvero, su due livelli, avere due possibili esiti. In genere, vengono associati 1 e 0 come possibili esiti. Ad 1 è associato l'evento di interesse o il successo, tra virgolette, e quando Y, quindi l'outcome, è 0, è associato l'evento complementare o in successo, comunque, a seconda della situazione. Comunque, questa è la cosa più importante, quindi, deve essere su due livelli, questa variabile target. Ed è la peculiarità della regressione logistica. Regressione logistica che, appunto, parte da un input di variabili e assegna una probabilità ad ogni, diciamo, ad ogni evento, e li classifica, li discretizza, tra virgolette, in sintesi, in due classi, nella classe 0, quindi che abbiamo visto, o nella classe 1, quindi nel successo o nel insuccesso, tra virgolette. Ciò che interessa, quindi, non è, in particolare, diciamo, non è il valore atteso o predetto, magari può interessare, ma, diciamo, in maniera meno rilevante, come nella regressione del lineare, ma ci interessa, soprattutto, la probabilità che un soggetto, un dato soggetto, appartenga, o meno, a uno dei due gruppi, oggetto di studio. Questa è la cosa, è la cosa importante, fondamentale di questa tecnica. Modello di regressione logistica, quindi, come prima, step, primo ricapitolo di quello che abbiamo visto finora, viene utilizzato quando si è interessati, quindi, a studiare o analizzare la relazione causale, tra una variabile dipendente, che è dicotomica, e uno o più variabili indipendenti, le cosiddette X, quantitative o anche qualitative possono essere. Non c'è un vincolo, in questo senso. Ha molte applicazioni, in variati ambiti di ricerca, per dare degli spunti, dare delle idee, ad esempio, in ambito psicometrico, se siamo interessati a valutare, ad esempio, un evento attacco di panico, quindi presenza di evento outcome 1, assenza di evento outcome 0, ad esempio, in funzione del livello di ansia o dell'età di una persona, quindi, che possono essere delle variabili X esplicative. In ambito medico, ad esempio, per valutare l'impatto di un'operazione chirurgica, un impatto positivo o negativo, ad esempio, quindi l'outcome deve essere sempre su due livelli, in funzione delle condizioni fisiche del paziente prima dell'operazione, quindi, ad esempio, un quadro clinico, esami, piuttosto che un stato della malattia. In ambito di analisi di mercato, un altro esempio, per valutare l'apprezzamento o meno di un cliente per un nuovo prodotto, ad esempio, alimentare, un prodotto dolciario, in base, ad esempio, al prezzo, al sapore, alla farcitura, alla forma, eccetera. O ancora, in ambito sportivo, su cui poi verterà il nostro esempio, che vi mostrerò, vedremo insieme tra poco, per analizzare, ad esempio, il successo o il insuccesso di un atleta, piuttosto che di un team, in base, ad esempio, a degli indici di performance, a delle caratteristiche, magari, esterne, ambientali, al terreno di gioco, alla pista di atletica, piuttosto che quello che si vuole. Quindi, vediamo che a molteplici applicazioni, questa tecnica, la cosa importante è riferirsi a un outcome dicotomico. Adesso andiamo un po' più nello specifico della, diciamo, della tecnica, per capire meglio cosa ci sta, cosa ci sta dietro a questa tecnica, diciamo, per interpretare meglio poi i risultati. Diciamo, questa è la formulazione classica della regressione logistica, a noi non ci interessa la formula, quello che ci interessa da capire è che questa formula, quello che ci dice la parte in rosso, scritta a sinistra, ci dice la probabilità di un dato evento, quindi quando l'y è uguale a 1, quindi l'outcome, quando l'outcome è presente, quando ha dato un set di, diciamo, di valori, di covariate, tra virgolette, x. La cosa interessante della regressione logistica è il cosiddetto OTS, un parametro interessante, che non è altro che il rapporto tra la probabilità dell'evento e il suo complementare, che poi dopo comunque capiremo meglio nell'esempio. Nella pratica la regressione logistica lavora con una funzione logit, che, tra virgolette, rende, serve il logaritmo, tra virgolette, giusto per cronaca, per rendere lineare questa funzione qua. E nella pratica, nello specifico, la stima dei parametri beta, quindi dei coefficienti di regressione, avviene con il metodo della massima verosimiglianza, quindi conduce a stime il più verosimili possibili, quindi che massimizzano la probabilità di ottenere quell'insieme di osservazioni. Questo giusto come cenno di cronaca. Nello specifico, se si consideriamo un modello con una sola esplicativa, che chiamiamo X, quantitativa, supponiamo essere, la cosa importante, un parametro molto importante della regressione logistica, è l'OTS ratio, che è la cosiddetta stima del rischio relativo, che non è altro che il rapporto tra i due valori di OTS all'incrementare, tra virgolette, di un'unità della X, che è dato dall'esponenziale elevato a beta, che è beta il coefficiente di regressione. E in particolare, quello che ci interessa a noi, è l'interpretazione di questo OTS ratio. Ha valori maggiori di 0, questo OTS ratio, e il valore di cutoff è 1. In particolare, se vale 1, vuol dire che un incremento unitario di quella X non altera la probabilità di sviluppare l'evento. Se abbiamo un OTS ratio maggiore di 1, vuol dire che, sta a indicare che un incremento unitario di quella covariata X concorre nell'aumentare la probabilità di sviluppare l'evento. Quindi X è considerato, in ambito clinico, è considerato un fattore di rischio. Non potrebbe essere il fumo per le malattie respiratorie, per fare un esempio. O in ogni caso, comunque, se noi non siamo in ambito clinico, vuol dire che comunque è proprio ideotico per l'evento. Questo vuol dire. Se lo OTS ratio è minore di 1, di contro, vuol dire che un incremento unitario di X, al netto delle altre covariate ovviamente, se ci sono, fa diminuire la probabilità di sviluppare l'evento. Quindi X è considerato, in ambito clinico, un fattore protettivo. In ogni caso, comunque, in un modello generale, è un fattore comunque non proprio ideotico per l'evento che abbiamo deciso di associare all'1, diciamo, tra virgolette. Questa è la cosa importante. Comunque, tra poco, nell'esempio, capiremo meglio queste interpretazioni. Comunque, il valore di cutoff da capire è l'1. Quindi maggiore di 1 è un fattore, quella covariata è proprio ideotica per l'evento, minore di 1 non lo è. Proseguendo, cosa importante, una volta che si è creato il modello, è importante capire se funziona quel modello lì, se performa bene o meno. Diciamo, lo possiamo capire principalmente dalla matrice, la cosiddetta matrice di classificazione, o detta anche confusion matrix, che non è altro che una tabella finale che ci dice quanto è bravo il modello nel classificare i due gruppi. In questo caso, abbiamo sempre sulle colonne i valori che prevede il modello e sulle righe i valori osservati, i veri del dataset. Quindi, in generale, sulla diagonale principale del nostro, di questa tabella, di questa matrice che sarà sempre ovviamente 1 a 2 per 2, abbiamo, diciamo, le stime, le classificazioni, più che le stime, le classificazioni corrette. Ad esempio, partendo, ecco, il valore in basso e in basso a destra, questo cerchiato 70%, la percentuale generale di correttezza, significa che, ad esempio, questo modello classifica correttamente 7 osservazioni su 10, in base a quello che ha imparato, che è dato, appunto, dai veri negativi più i veri positivi, diviso la dimensione, appunto, del nostro dataset. E, appunto, come vi dicevo, il 169 e il 99, sulla diagonale principale, sono le classificazioni corrette, quindi quando il modello, tra virgolette, indovina in base alle covariate che abbiamo. Di contro, i valori sulla diagonale secondaria sono gli errori del modello. Quindi il 45 e il 67 sono errori del modello. Quindi, in generale, un modello che ha una percentuale generale di correttezza maggiore, diciamo, almeno del 75, è, diciamo, considerato discreto, almeno del 75%. Significa che classifica correttamente almeno 75 osservazioni su 100, in generale. Poi, ci sono anche dei test, il test di Waldo, in particolare, sui coefficienti di regressione per valutare le singole covariate, se sono significative o meno. Lo si può vedere in questi due casi, cioè, in queste due formulazioni che sono equivalenti, o guardando l'hots ratio o guardando il beta, quindi il coefficiente di regressione puro, è strutturata in questo modo. Se si accetta H0, vuol dire che quella covariata non è significativa per il modello. Quindi, noi l'accetteremo H0 se abbiamo un p-value, quindi il classico criterio di decisione, se abbiamo un p-value grande, tra virgolette, maggiore di 0,05, quindi la variabile non è significativa, si può tranquillamente omettere dal modello senza alterarne le performance. Di contro, se rifiutiamo H0, vuol dire che il coefficiente di regressione, o l'hots ratio, sono rispettivamente diversi da 0 e diversi da 1, e quindi vuol dire che quella variabile è significativa per il modello, e lo si sceglie in base al p-value sempre, se abbiamo un p-value piccolino, quindi minore o uguale di 0,05, che è il valore di cut-off, diciamo, più riconosciuto a livello, diciamo, di letteratura, e in questo caso, quindi, significa che l'ipotesi nulla è improbabile, e quindi si propende per l'H1 e la variabile, quindi è significativa per il modello. Quindi questi, diciamo, sono i due criteri principali, guardare la matrice di classificazione per il modello in generale, e guardare il test d'ipotesi di Wald per le singole covariate, a vedere se sono significative o meno. Ma ora passiamo all'esempio pratico con il nostro software, statistics. Adesso esco e mi sposto sui dati. Ok. Li vedete i dati, Laura? Sì, assolutamente sì. Ok, perfetto, grazie. Grazie mille. Ok, quest'oggi facciamo un esempio un po', tra virgolette, da, diciamo, un po', divertente, perché vi propongo questo dataset che contiene le partite di calcio, di quasi duemila partite di calcio della serie italiana, relative alle ultime cinque stagioni, dal 2015 al 2020, con i relativi risultati, e degli score, diciamo, di performance delle due squadre. Quindi l'obiettivo, qual è? È, diciamo, vedere l'applicazione di un modello di regressione logistica e in che modo. Definiamo, tra virgolette, un outcome, che è su due livelli, che nel nostro caso utilizzeremo come outcome la vittoria della squadra che gioca in casa, quindi associeremo uno a quando la squadra che gioca in casa vince, zero altrimenti, quindi, quando pareggia o perde. L'obiettivo è creare un modello, quindi, di regressione logistica in base ai parametri di performance relativi alle partite. Parametri di performance che vi mostro qua sono queste, sono differenze, sono tutte differenze negli score di queste statistiche. Ad esempio c'è la differenza negli expected goal, che sono le potenziali occasioni create tra le due squadre al termine della partita, differenza da reti all'intervallo, falli, cartelli gialli, cartelli rossi, calci d'angolo, tiri totali, tiri in posto. Quindi in base a queste caratteristiche vediamo se la regressione logistica ci porta un modello, diciamo, accettabile che possa, diciamo, classificare in base agli score rilevati in partita il risultato. Quindi se potenzialmente vince o meno la squadra che gioca in casa. Diciamo, la prima cosa da fare è quindi definire l'outcome, perché in generale, ma questo non solo in questo esempio, ma in qualsiasi applicazione, spesso e volentieri non sia già pronto, bello e pronto l'outcome di interesse sui due livelli 1 e 0, ma bisogna, tra virgolette, costruirsi le due classi. In questo caso, infatti, noi non abbiamo già pronto l'outcome 1 e 0, ma abbiamo questa colonna che ci dice il risultato, il full time result, il risultato finale della partita e ci dice H se ha vinto la squadra che gioca in casa, D, draw il pareggio, A e Waze ha vinto la squadra che gioca in trasferta. Per cui dobbiamo crearci l'outcome. Come facciamo? Statistics ci propone questo metodo per creare questa nuova variabile che faremo in questo modo. Dal menu trasforma, ricodifichiamo in variabili differenti. Noi vogliamo visualizzare, anzitutto, i nomi delle variabili. Vogliamo ricodificare questa, il full time result, in questo modo. la mettiamo qui e poi quali diciamo il nome della nuova variabile che siamo interessati a creare, la chiamiamo home team risultato, clicchiamo modifica e poi andiamo su valori vecchi e nuovi. Valori vecchi e nuovi che diciamo cosa voleva dire prima e cosa ci interessa, che significhi adesso. Il vecchio valore H, che quindi quando vince la squadra in casa, il nuovo valore sarà 1. quindi per metterci sui due livelli. Mentre invece per i vecchi valori, per tutti gli altri valori, quindi quando trova D e quando trova A, gli diremo che deve scrivere 0. Diciamo continua e gli diamo ok. Statistics esegue, lavora, così. Torniamo di qua, sul dataset, andiamo in fondo al nostro dataset e vediamo che qua c'è aggiunto questa colonna che col risultato finale ci dice se la squadra che gioca in casa ha vinto o no. Quindi quando è 1 vuol dire che ha vinto, quando è 0 vuol dire che non ha vinto la squadra che gioca in casa in base agli score. Adesso andiamo in vista variabile e quello che ci interessa magari è innanzitutto per questa nuova variabile un risultato togliergli decimali perché non hanno senso e gli diamo diciamo 0 decimali e inoltre per migliore interpretazione i valori li modifichiamo andiamo in questo nell'opzione valori clicchiamo sui tre puntini a destra e gli diciamo gli diamo l'etichetta ai valori quindi valore 1 gli diciamo che vuol dire che la squadra che gioca in casa ha vinto gli diciamo aggiungi quando è 0 gli diciamo che la squadra che gioca in casa non ha vinto diciamo aggiungi e gli diciamo ok in modo tale che se torniamo in vista dati vediamo qua che lui ci mette le etichette se clicchiamo qui possiamo decidere se vedere la codifica 1-0 o la codifica estesa diciamo a parole questo può essere utile se un indomani si riapre il file si capisce subito che cosa si intendeva per 1 e cosa si intendeva per 0 questo dal punto di vista diciamo può essere molto utile ecco una volta che abbiamo creato il nostro outcome di interesse siamo pronti per per applicare il nostro modello creare il nostro modello quindi in base a quelle covariate che abbiamo definito andremo sul menu analizza siamo pronti per la regressione logistica regressione logistica binaria eccola qui allora gli diamo la nostra variabile dipendente che è il risultato della squadra che gioca in casa e come covariate gli diamo tutti questi in questo caso sono tutte quantitative sono tutte differenze di score rilevate in partita volendo se le avessimo avute comunque in generale si possono aggiungere anche variabili categoriali cliccando qui e si aggiungono le covariate categoriali ecco una volta fatto questo ci sono anche diverse opzioni c'è il pulsante salva per salvarci lo faremo tra poco le probabilità e le appartenenze nei gruppi ecco il pulsante opzioni per vedere in questo caso ci interessano l'intervallo di confidenza per gli odds ratio expdb lo odds ratio diciamo continua e gli diamo ok adesso statistics lavora e ci arriva arriviamo sull'output quello che ci interessa di questo output ecco vediamo che lui ci dice la codifica della nostra variabile dipendente che 0 vuol dire che la squadra di caso non ha vinto uno che ha vinto ci interessano in particolare le ultime due tabelle quindi la tabella di classificazione e le diciamo la tabella dei data e degli odds ratio innanzitutto dalla tabella di classificazione vediamo come questo modello subito in basso a destra la percentuale la percentuale di correttezza vediamo come in questo caso questo modello classifichi correttamente praticamente l'80% delle osservazioni quindi 8 partite su 10 le classifica correttamente tradotto e in particolare vediamo come sulla diagonale principale classifichi correttamente 874 partite in cui leggendo sulla riga il risultato finale la squadra di caso non ha vinto lui le classifica correttamente guardando sulla colonna invece se 143 partite in cui il valore osservato era ht vinto quindi la squadra di casa ha vinto le classifica correttamente anche il modello gli errori sono questi sulla diagonale secondaria quindi 178 e 204 178 partite in cui la squadra di casa non ha vinto il modello sbaglia e dice che invece ha vinto e invece per 204 partite 204 casi in cui l'home team ha vinto il modello dice invece il contrario questi sono sulla diagonale secondaria sono gli errori del modello comunque un modello comunque discreto perché comunque classifica correttamente 8 partite su 10 8 casi su 10 nella seconda tabella vediamo invece le significatività delle singole covariate che abbiamo inserito nel modello quindi abbiamo in questa colonna delle signe sono le significatività quindi relativamente al test di Wald in particolare se avevamo detto che se abbiamo un p-value piccolino quindi valore minore di 0,05 vuol dire che quella variabile è significativa per il modello in particolare lo sono quasi tutte tranne differenza falli commessi quindi differenza tra falli commessi non è una variabile significativa per classificare il risultato e stessa cosa differenza nei cartellini non sono non sono variabili significative quindi si possono tranquillamente omettere dal modello che non lo si altera in exp nella colonna accanto exp db che sono gli odds ratio ci aiutano diciamo a interpretare diciamo se le variabili in questione sono propedeutiche per l'evento vittoria o meno ad esempio abbiamo differenza expected goal che sono i goal attesi comunque le occasioni create in sostanza è maggiore di 1 questo odds ratio quindi è propedeutico per la vittoria della squadra che gioca in casa stessa cosa ancora più forte perché è molto maggiore di 1 è 3,4 è differenza reti all'intervallo differenza reti all'intervallo è ancora più forte propedeutica per il risultato finale per la squadra che gioca in casa propedeutico per il risultato quindi con un odds ratio maggiore di 1 c'è anche differenza tiri in porta che è molto proprio ideutico di contro ci sono due variabili ovvero differenza calci d'angolo e tiri totali che sono significative quindi vediamo che la significatività è minore di 0,5 ma al contempo hanno un valore un odds ratio che è di poco sotto l'1 questi casi qua che sono casi un po' diciamo borderline poi sta molto anche all'esperienza del ricercatore che ha con i dati e sull'argomento diciamo la confidenza che ha con l'argomento di studio decidere se tenerle o meno anche se sono significative in questo caso non ha molto non ha molto senso tenerle perché comunque hanno un odds ratio molto vicino ad 1 che vuol dire che non sono molto importanti per la classificazione quindi non possiamo tranquillamente togliere anche queste due anche se sono significative quindi questo diciamo poi sono osservazioni che si fanno anche in base diciamo anche all'esperienza che si ha sull'argomento interrompo un attimo perché abbiamo una domanda abbastanza diciamo sul punto che cosa rappresenta B e concretamente che informazioni dà come si interpreta se è minore di zero piuttosto che maggiore di zero B sì B no B allora per la regressione logistica sarebbe il coefficiente di regressione però a livello di interpretazione ci si rimanda sempre a EXP di B che è l'os ratio nella regressione logistica non guardate B perché B lui lo fa perché fa vedere tutti i calcoli per cui fa vedere anche B ma per la regressione logistica a differenza delle regressioni lineari dove si guarda il B ed è importante per la regressione logistica è fondamentale EXP di B quindi questo 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 è il mio consiglio bisogna guardare l'os ratio per la regressione logistica per capire quali valori sono propedeutici e quali no per l'evento e infatti stavo per stavamo per vedere che il valore differenza cartellini rossi è nettamente minore di 1 quindi se questi altri due sono prossimi all'1 perché comunque sono anche se sono significativi 0,94 95 perché abbiamo detto possiamo toglierli anche perché hanno un'os ratio molto vicino all'1 questo è molto sotto l'1 idealmente se l'os ratio è minore di almeno 0 sotto lo 0,85 lo 0,85 si tiene quella variabile e per cui inferenza cartellini rossi non è per niente proprio ideotico per risultato come ovviamente ci si aspettava quindi adesso possiamo ricreare il modello eliminando le variabili non significative quindi eliminando differenza falli cartellini sali e le due che hanno un'os ratio comunque poco rilevante perché è molto vicino ad 1 quindi andremo sul menu analizza ancora regressione logistica binaria eccoci qui eliminiamo quindi tiri totali corner cartellini sali e falli per cui ci rimangono queste 4 queste 4 covariate che sono quelle comunque che statisticamente sono significative anche dal punto di vista diciamo interpretativo lo sono qua possiamo salvare le probabilità dell'appartenenza del gruppo nel nostro output finale gli diciamo continua e poi per il resto lasciamo tutte le opzioni che ci sono diciamo ok lui lavora eccoci qua andiamo in fondo sempre alle ultime due tabelle dell'output di SPSS e vediamo allora innanzitutto la tabella di classificazione vediamo come innanzitutto in basso a destra la percentuale di correttezza praticamente è calata solo di un punto percentuale nonostante abbiamo un modello molto più snello molto più semplice quindi questo ha dimostrazione del fatto che abbiamo tolto variabili di poco conto comunque perché il modello è rimasto molto è stato molto forte in ogni caso cioè se avessimo tolto delle variabili e questa percentuale magari fosse crollata ad esempio al 60 50% significa comunque servivano a qualcosa quelle variabili in questo caso praticamente va benissimo così quindi abbiamo il modello il modello comunque è molto discreto comunque diremo con una percentuale di correttezza globale del 78% 78,5% e guardando la tabella la tabellina sotto vediamo come sono tutte significative le nostre variabili e l'host ratio è gli host ratio tra virgolette calcolati dal modello sono comunque coerenti come interpretazione perché comunque il fattore tra virgolette di propedeutici comunque al risultato più forte resta sempre la differenza reti all'intervallo differenza expected goal e differenza tra tiri in porta molto importante anche questo l'unico che non è propedeutico ovviamente come si aspettava è la differenza nei cartellini rossi che non è propedeutico per il risultato finale quindi questa è l'interpretazione molto buona e poi accanto ecco non l'avevamo visto prima c'è l'intervallo di confidenza anche per comunque per l'host ratio per l'expdb che è il nostro host ratio che ci mette il 95% e ci conferma comunque che sono significativi perché gli intervalli di confidenza ad esempio 1,2 1,6 non contengono l'uno comunque non finiscono molto troppo vicino all'uno perché se qualora contenessero uno questi intervalli di confidenza vuol dire che non è significativo la variabile in questione la covariata per il modello ma lo sono tutte in questo caso quindi adesso tornando ai dati velocemente eccoci qui vediamo come il modello in fondo nel nostro dataset abbia aggiunto le due colonne oltre al risultato che abbiamo già creato prima le due colonne che gli abbiamo detto di aggiungere quindi ha aggiunto pre1 che non è altro che la probabilità di vittoria per la squadra che gioca in casa e pgr1 è il gruppo a cui lo associa quel caso quella partita se lui legge probabilità maggiore di 0,5 associa al gruppo 1 quindi al gruppo vittoria vince la squadra che gioca in casa altrimenti al gruppo 0 ad esempio se guardiamo la partita 2 vediamo Verona Roma che è finita 1 a 1 vediamo poi ha tutti gli suoi score i suoi punteggi in base agli score rilevati in quella partita la probabilità di vittoria della squadra che gioca in casa del Verona è 0,22 quindi dal 22% molto bassa infatti lui l'associa al gruppo 0 ovvero dice no non vince la squadra che gioca in casa quindi ed è così perché parezza e anche il risultato vero è giusto quindi il modello in questo caso tra virgolette la classifica correttamente indovina quindi questo per far vedere diciamo un esempio pratico di applicazione Nello specifico Mattia scusami ci chiedono se è da considerarsi un errore lasciare nel modello variabili non significative beh si possono grazie per la domanda no si possono si possono anche anche tenere però nella pratica non non portano un guadagno al modello o comunque uno volendo magari le può tenere però alla fine quando spiega i risultati lo dice dice ho tenuto ho tenuta però non è significativa per enfatizzare la cosa per dirlo lo si può tenere eventualmente ok grazie ok proseguendo possiamo vedere l'equivalente tra virgolette grafico della tabella di classificazione per dare un impatto grafico immediato e molto molto chiaro come in cui metteremo i gruppi diciamo classificati dal modello e i gruppi veri che sono i risultati i risultati veri della partita come innanzitutto andiamo in vista variabile e modifichiamo l'etichetta del gruppo previsto eccolo qui giusto per magari per distinguerla dal risultato vero come quando la squadra di casa non vinto gli aggiungiamo semplicemente previsto o magari anche modello che così giusto per capire che l'ha calcolata il modello stessa cosa per quando vince che è il valore previsto dal modello di regressione logistica una volta fatto questo possiamo fare realizzare questo grafico dal pulsante grafici finestra di dialogo un grafico a barra particolare un grafico a barra in pila definiamo eccolo qui e mettiamo metteremo il risultato vero qui nell'asse della categoria e il gruppo previsto nel qua sotto definisci pile tramite il gruppo previsto diamo l'ok statistics eccolo qui ci da in output ecco qui praticamente questo grafico a barre è l'equivalente della matrice qua sopra di classificazione vista dal punto di vista grafico quindi vediamo la prima barra non è altro che tutte le partite in cui la squadra di casa non ha vinto quindi che sono più di mille partite e di queste mille partite quelle in in azzurro sono le partite in cui anche che il modello dice che la squadra di casa non ha vinto mentre invece questi qua in verde scuro che sono poco meno di 200 sono tra virgolette gli errori del modello quindi quando la squadra di casa non ha vinto ma il modello dice che ha vinto la stessa interpretazione per la colonna di destra quindi sono tutte le partite in cui la squadra che gioca in casa ha vinto che sono poco più di 800 e di queste le previsioni classificazioni corrette sono quelle in verde quindi che anche concorde in cui concorda anche il modello gli errori del modello sono questi qua in azzurro in questo caso per volendo per omogenizzare diciamo le due le due colonne e capire meglio quali dei due se il modello è più bravo a prevedere quando la squadra che gioca in casa vince o quando non vince facciamo un doppio click sul grafico e clicchiamo qua in alto a destra per scalare al 100% quindi non abbiamo più i casi i valori assoluti ma abbiamo le percentuali vediamo come il modello sia più forte comunque nel nel classificare quando la squadra di casa non vince infatti l'azzurro è praticamente più dell'80% in questo caso e in questo caso nel caso di quando vince la squadra che gioca in casa il verde è sotto l'80% quindi è più tra virgolette bravo più forte nel classificare quando non vince la squadra che gioca in casa questo comunque può essere utile per un report comunque per presentare i risultati in maniera diciamo carina tornando alla nostra alla nostra presentazione per prima di concludere ecco qua vediamo velocemente due interpretazioni eccoli qui per capire meglio ancora l'off ratio l'interpretazione del nostro output per quanto riguarda sono due esempi per i tiro in porta e i cartellini rossi per il tiro in porta avevamo un off ratio maggiore di 1 vuol dire che un tiro in porta in più di differenza di score effettuato dalla squadra A quindi la squadra che gioca in casa rispetto alla squadra B incide positivamente sulla possibile vittoria della squadra A quindi un fattore proprio ideotico per il risultato di contro un off ratio minore di 1 rilevato per i cartellini rossi quindi vuol dire che un cartellino rosso di differenza per la squadra a favore della squadra A rispetto alla squadra B incide negativamente sulla possibile vittoria della squadra A quindi in questo caso è un fattore non proprio ideotico per il risultato e ancora un altro esempio di utilizzo diciamo per l'aggressione logistica una volta che ci siamo creati il modello può essere utile per un esempio di previsione ipotizziamo che in una partita tra una squadra A e una squadra B ci siano i seguenti score quindi differenza di gol di 1,17 differenza reti all'intervallo di un gol nessun cartellino rosso quindi differenza 0 5 più 5 di differenza tiri in porta possiamo prevedere la probabilità di vittoria nella squadra A sulla base di questo modello applicando la formula iniziale quella formulona che c'era all'inizio i numerini rosso sono quelli sono i valori pratici che abbiamo definito noi e in questo caso la probabilità di vittoria per la squadra che gioca in casa è praticamente dell'88 quasi 89% seguendo quegli score lì quindi in conclusione la regressione logistica abbiamo visto che è un tool molto versatile applicabile in diversi molti ambiti di ricerca cosa importante è da crearsi se non c'è già un outcome di tipo dicotomico quindi su due livelli 1-0 la significatività cioè per valutare il modello si guarda la confusion matrix quindi la matrice di classificazione modelli con almeno un 75% di classificazione corrette diciamo sono da tenere si possono tenere sono discreti si valuta diciamo la significatività delle variabili applicative col test di Wald a livello di commenti sono molto utili gli host ratio per valutare per valutare la proprietà o meno di quella covariata all'evento e un'altra diciamo utilità oltre che per la classificazione capire quali variabili concorrono o meno per l'evento è utilizzabile per prevedere la probabilità di appartenenza quindi ad una piuttosto che ad altra a un'altra categoria quindi detto questo vi ringrazio per la cortesia attenzione e do la parola la Laura se ci sono qualche domande ecco in realtà lasciamo la parola a te perché c'è un'altra domanda dimmi subito nel caso la variabile di outcome non sia dicotomica ma prevede ad esempio quattro possibili outcome come sarebbe più opportuno procedere? beh in quel caso lì se si vogliono tenere tutti e quattro gli outcome quindi presumo che sia una categoriale su quattro livelli ci sono altre tecniche che sono i cosiddetti metodi di classificazione che prevedono più di due possibili valori sull'outcome o se no la si potrebbe rendere dicotomica se si può se no in quel caso è meglio propendere non per la regressione logistica ma per altri metodi di classificazione ok c'è un'altra domanda il metodo stepwise può fare lui il lavoro di selezionare le variabili significative da tenere nel modello sì 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 assolutamente ok non abbiamo altre altre domande vi ricordo comunque che tutte le vostre domande saranno poi e le risposte ovviamente saranno rese disponibili sul sito della CRUI vediamo se riesco a condividervi la pagina vediamo un po' qua allora vi avevo messo il link anche prima in chat comunque c'è una sezione che è poi raggiungibile anche dalla pagina che vi avevo il link vi avevo messo all'inizio del webinar quindi potete anche arrivare da qui guarda le registrazioni andate su questa pagina alla sezione covid19 webinar trovate tutte le registrazioni dei webinar CRUI tra cui ovviamente i nostri ecco vedete qua ad esempio c'è quello del 26 giugno dell'anno scorso trovate anche poi da qua potete scaricare anche le slide ed eventualmente anche le Q&A una cosa che volevo dire velocemente era arrivata intanto è arrivata anche un'altra domanda vediamo un po' sì ho visto un po' di tempo come si inseriscono le variabili indipendenti quando sono categoriali si inseriscono c'era il pulsantino magari magari l'hai sfuggito comunque all'inizio quando ho fatto vedere c'è il pulsante non ti sentiamo più Mattia adesso sì mi sentite? dicevi c'è il pulsantino ok c'è il pulsante nel menu nel menu della regressione logistica c'è il pulsante in alto categoriali e si clicca da lì e si inseriscono da lì quale categoriale io aggiungo qualcosa una cosa al volo una persona mi chiedeva dei valori mancanti cioè quando si ha un dataset con i valori mancanti quella domanda risposto io perché esiste un modulo di statistics che si chiama missing value che fa proprio quello cioè individua i valori mancanti e poi se vuoi spiegare tu esattamente come funziona o fare vedere da menu dov'è perché io adesso statistics sotto non ce l'ho sotto mano Mattia praticamente lo dico proprio velocemente nel menu nel menu analizza c'è c'è l'opzione dati mancanti comunque comunque in generale anche quando si fa quando si apre la regressione il menu di regressione logistica c'è l'opzione per dirgli o non considerarli o comunque di comunque in generale è meglio è meglio farla prima a priori l'analisi sui valori mancanti ecco prima dell'analisi assolutamente perché fa parte comunque della parte diciamo della preparation esatto sono quelle cose che vanno fatte sicuramente prima di iniziare l'analisi bene direi che noi abbiamo finito a questo punto vi salutiamo non so se anche Davide voleva dire qualcosa di Cruy noi ci aggiorniamo comunque speriamo il prossimo autunno con il nuovo ciclo di webinar mi raccomando se avete dei suggerimenti andato a compilare assolutamente il questionario che vi avevo fatto vedere all'inizio così saremo conto anche delle vostre segnalazioni per decidere gli argomenti dei prossimi webinar per adesso io vi ringrazio e vi saluto a presto io vi lascio solamente il link alle registrazioni degli ultimi due incontri cioè dei precedenti due incontri sul nuovo sito ICT della Cruy lo metto nella chat e vi saluto anche io grazie grazie a presto grazie